Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo primo video dedicato a Doctor Doom vi spiegherò come portare a termine la prima sfida, o fase 1, che è quella di visitare una statua di Doctor Doom come Doctor Doom. Sembra un gioco di parole, è una sfida semplicissima e velocissima, però dovete ovviamente raggiungere il livello richiesto per fare le sfide di Doctor Doom. Ora, la statua di Doctor Doom è l'unica ed è quella situata al dominio di Doom. Quindi la prima cosa da fare ovviamente è sbloccare la skin di Doctor Doom. Seconda cosa è di sbloccare le sfide di Doctor Doom. Dopodiché utilizzate Doctor Doom in qualsiasi modalità e visitate la statua. C'è veramente una sfida semplicissima. Adesso vi mostro ovviamente che viene completata, insomma. Quindi con Doctor Doom visitate il dominio Doom, atterrate dove c'è la statua di Doctor Doom in qualsiasi modalità. Una volta che avete raggiunto il livello 74, quindi avete sbloccato sia Doctor Doom sia le sfide di Doctor Doom. Quindi in questo modo potete completare la prima fase. Sono quasi arrivato. È indifferente la posizione dove atterrate. L'importante è arrivare alla statua di Doctor Doom come Doctor Doom.